Lasciata, non fare, adesso c'è il mio amico, basta Basta, basta, facciamo le cose normali perché in questo momento non è più tv Come? Ma come, stanno aspettando il vincitore del festival di San Renzo? No, no, a livello di spettacolo, infatti dobbiamo aspettarlo, anche noi in silenzio Ci sediamo sui gradini Come in silenzio? Ma che ti metti a cantare, a fare spettacolo? Ma come? Allora, loro sono stravolti tutti Quelli sopra tra l'altro si prendono tutto Perché tu lo sai come funziona, il calore della platea Quando si sale e se lo beccano quelli in alto, lo sai? Il calore sale, certo Sale, sale, quindi che cosa dovrei fare io adesso? No, io non ho mai saputo che cosa fai tu nell'arco 25 sera No, avrei dovuto fare un qualcosa, però a quest'ora dai, se può, perché la platea non recepisce Non recepisce, no, volete che riposiamo o volete che faccia quel qualcosa che io non so? Eh? No, no, ma io non lo so che cosa devo fare Non lo so neanche io Posso salire il microfono? Posso salire il microfono un attimo? Allora, grazie Apri Allora, intanto, da come poi cominciamo Ho pensato una cosa da fare con te Intanto faremo un omaggio Canto, insomma, canto Ok, questo ci fa piacere Tu devi stare qua vicino a me No, dipende, se non mi servo me ne vado No Io non so cosa deve fare Sono cinque giorni che non ho idea Allora, alzate questo Ok Voglio fare il giovane Voglio fare un po' di troppo improvvisata Non c'è bisogno di scrivere testi E questo si chiama freestyle Mi piace inventare così al momento O dimmi che bello, mi chiamo Fiorello Minchia, ello, minchia ragazzi Wow Premio strega Wow Sì Oggi se dobbiamo comunicare con i nostri giovani Ogni genitore deve avere il microfono con l'autotune Così solo ci può Sì Così Tu vai Hai fatto i compiti Ti immagini Mia figlia Da Chi è quello Tuo fidanzato Ah sì Fammelo conoscere Quanti anni ha 15 Non arriva a 16 Questo non era il pezzo che avrei dovuto fare Scuscu Perché i trapper fanno Scuscu Quando non sanno cosa dire Scuscu Perché comunque Scusi dottor Coletta Voglio vedere Allora Veramente Ah ma improvvisiamo tutto Perché Dobbiamo aspettare Perché hanno C'è Fiore Fiore C'è la gara C'è la gara C'è la gara Non possiamo fare niente Sporziamo tutto in avanti Adesso hanno finito i cantanti Adesso che i cantanti hanno finito Fiore Fiore Vai Sai che ti farei Guarda Stavo per dirti Allora Era l'inizio Di una cosa tremenda No un attimo Mi metti più autotune Voglio vedere un altro Direttore Coletta Come va Bene Questa è la fine della line Questa è la fine Questa è la fine della Rai Lei è meravigliosa Mi ha dato in queste sere Delle soddisfazioni Vero Perché oggi La cosa del fiscismo di ieri sera Ha avuto molto successo Allora oggi Durante le prove Cosa ho fatto Cosa ho fatto oggi Durante le prove Ho continuato Vero Tantissimo Tantissimo Fra Martino Campanaro Dormi tu Dormi tu Suona la campana Suona la campana E din don da Din don da Din don da Din don da Ma i movimenti dei trapper Sono meravigliose Perché loro Fanno questo Ma viene vicino Io sono il suo Lexsti Vieni qua Lui con me Si tranquillizza Vieni qua Hai visto come fanno loro Perché sono un po' che non sanno, non so dove andare però così ho avvicinato tanti giovani i giovani ragazzi vieni qua, cazzeggiamo i giovani, oggi i ragazzi, i ragazzi, chiamiamoli bella raga ciao zio o bella raga ciao zio o bella raga bella zio, non provarci non ci devi provare con me hai visto Gali ieri? io ieri amici telespettatori se ne sarete 6-7 in questo momento stanno aspettando il vincitore del festa di Sardegna allora non ha capito come funziona la vita questo signore qua non è più come prima adesso vanno a letto si svegliano vanno su Rai Play e si riguardano la finale hai capito qual è? non c'è più quello che dice ma io aspetto questi io dormo o hanno messo sai che ci sono? si può registrare dalla diretta quindi non ci aspetto a me quindi non c'è nessuno puoi fare quello che vuoi fai aaa esatto qualsiasi cosa ora che stavo dicendo io? qual era il discorso? che stavo dicendo? cioè non mi segue Gali, Gali, Gali ah Gali che tu ma l'hai chiamato Gavi prima ha detto lui tu l'hai chiamato Gavi 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 Scon quello per quello dei pompierini sai quello dei pompierini? l'hai visti i pompierini che che bruciano? vabbè Gali, Gali a un certo punto Gali arriva da lì io ero là ero là e Gali cade mi fiondo arrivo qui di corsa e dico oddio quello si è ammazzato cioè Gali e quando è caduto sai come ha fatto? aaa si ha fatto maale ho chiamato la male aaa io parto e già mi vedevo vedevo la prima pagina di tutti i quotidiani sei arrivato fino a qua la prima pagina di tutti i quotidiani ero ero è salva Gali lui arriva ma chiappa per il doppio petto da lì fa fermo dove vai? dove vai? è caduto si è fatto male no mi fa è tutto finto mi faccio ma come è tutto finto? scusami mi fa non te l'ho detto sono così tu pensa alla figura che avrei fatto se fosse una gag che quelli avevano preparato da tre mesi bruciata solo perché lui non dice le cose però non lo sai no stavo dicendo possiamo anche andarci il pezzo non c'era quindi era questo dai facciamo qualcosa no no sto dicendo ma che vuoi fare i ragazzi i ragazzi dobbiamo parlare dei ragazzi che in questo momento non sono davanti al televisore mica sono scemo oh ma no i ragazzi sono tutti davanti al televisore no sono tutti in giro figurati i ragazzi sono tutti in giro questo è sabato sabato sera ah ti volevo dire una cosa secondo me Cristiano Ronaldo non verrà mai più al festival di Sanremo perché gli hai portato una sfiga ma perché? gli hai portato una sfiga perché lui dirà lui dirà ma che c'entro io? ma non è tutta colpa mia per qualsiasi cosa lui dirà io sono stato al festival di Sanremo è perso che lingua è? che russo volevo fare il portoghese ma è uscito il russo ragazzi si può dire al festival di Sanremo ma questo si chiama cazzeggio in libertà qui non c'è tecnica non c'è niente però devo dire i ragazzi i ragazzi che tu hai portato al festival di Sanremo non so come tu abbia fatto però i numeri ci sono sono veramente i ragazzi di oggi io devo fare fate un applauso alla nostra gioventù cioè i vostri figli i vostri figli i nostri figli che devono affrontare rispetto a noi rispetto a noi tante più difficoltà che pure noi voglio dire perché noi quando eravamo piccoli io lo dico noi siamo dei sopravvissuti cioè veramente non c'erano le minime le minime norme di sicurezza cioè ti asciugavi i capelli e morivi tranquillamente ti ricordi com'era? non c'era va tranquillo che fai ti asciugavi i capelli se poco 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 avevo un mignolo del piede umido era così non c'era le cinture di sicurezza io me lo ricordo non c'era le cinture di sicurezza quindi tu appena una frenatina il bambino pum porta oggetti io mi ricordo allora l'airbag vi ricordate l'airbag mi ricordo mio padre era la mano di mio padre ti ricordi l'airbag? dai che bello invece ragazzi oggi più sicurezza è giusto anche l'alimentazione il prosciutto senza polipostanti cioè io i polifosfati li compravo sfusi andavo lì mi dà due etti di polifosfati e la mattina quando mi svegliamo mi credi un bel bicchiere di olio di palma non contiene oggi c'è la filosofia del non contiene mi dico non contiene ma ancora dai su allora no vax pro vax si minchia noi ci prendevano così a casa tu camminai giocavi vieni qua prendevano un saldatore ti facevano una specie di pizza margherita quattro stagioni qua stavi per due settimane a casa così magari le mamme dicevano io ho fatto il vaccino io penso che ho avuto dolore fino a 21 anni credo che ancora mi faceva male sta cosa qua stop al televoto stop e mi raccomando stop al televoto stop al televoto no per dirti quello che eravamo cioè ad esempio avete visto i giocattoli? oggi i giocattoli c'è il marchio c'è non ci sono le rotelline non c'era così cioè noi disgraziati noi giocavamo con giocattoli di ferro è vero nella confezione c'era scritto contiene tetano cioè proprio così tu lo compravi e ti arrucidiva il giorno dopo infatti i fratelli minori quelli a cui andava tutti col tetano guarda questa cosa mi ricordo sempre dell'alimentazione voi ricordate il ghiacciolo alla fragola? sì certo c'era io mi ricordo era talmente fragola era viola allora intanto nella confezione si era scritto non contiene fragola non c'è c'è tu col ghiacciolo sai che ci potevi fare? ci potevi ridipingere casa non è un pezzo è veramente fare delle riflessioni ad esempio no? tu come dicevi quando non andavi a scuola? a Verona si dice fare Berna a Milano bigiare fare Berna? a Verona è Berna e ti ho fatto Berna? si dice a Verona si dice si ho fatto Berna Berna? si bevo oppure a Milano ho bigiato ho bigiato da noi Magale hai Magale hai cioè significa che tu Presidente Totti come sta? l'unico politico che gira qui per Sanremo Totti non voglio fare perché è l'unico perché con quanto Presidente della Liguria come sta? ma a quest'ora complimenti eh complimenti a Sanremo è l'unico che mi ha vissuto allora è vero mi metti l'autotune un attimo? va da Totti che ti devo di scu scu questo scu scu ottimo qui c'è del bottiglismo che scivola del bottiglismo che porta sta roba qua io avrei adesso una canzone ti stavo dicendo mi sono dimenticato una canzone ah no del bigiare eh bigiare e tu hai detto tu hai detto no perché noi quando andavamo a scuola perché siamo ignorati perché per noi era facile non andare a scuola tu andavi lì ad esempio sai come si chiamava il mio liceo scientifico? si chiamava liceo scientifico Andrea Saluta io andavo arrivavo lì facevo ciao per me era facile io era invitante era invitante come diceva quindi poi tu che facevi? era clave ve lo ricordate? libretto delle giustificazioni firmavo io quante volte sapevo imitare perfettamente e tutti noi tutti noi la firma questi poveri ragazzi sono fortunati perché sono più intelligenti di noi non c'è dubbio provassero ad andare a scuola un giorno 27 mail la PEC oggi suo figlio non si è presente mentre su casa arrivano i droni della scuola arriva le squadre speciali con le corde eccolo ha capito oggi è praticamente impossibile quindi questi ragazzi meno male vivono sicuramente sicuramente meglio di noi ma una cosa e ci siamo arrivati voi non ce l'avevate cioè una cosa bellissima che io veramente ripristinerei per legge cosa che stanno a fare festeggi no tornato Morgan e Bug secondo me sono tornati questa roba io sono stato io ho capito la colpa è mica mia quel che sto tu hai capito la musica è il genio della musica stanno oh ma io che sto sono fissati è meraviglioso sta dicendo una cosa che tu andresti a ripristinare i lenti i balli lenti quando ci si abbinghiava si parlava lo so ma guarda questi duecchi guarda che cosa dicono i lenti no era una cosa bellissima ora se ove ci fosse qualcuno all'ascolto o qualcuno che magari ci guarderà in futuro ecco il momento che tu non sai cioè io e te adesso faremo vedere ai giovani come autotune si va autotune si va nel lento allora finiamo finiamo io e te balliamo finiamo la questa cosa per forza uomo o donna perché due etero sei etero io pure sono etero va bene va bene e balliamo facciamo vedere giacomo no facciamo così facciamola intera tu mettiti lì io vengo da te e ti dico la classica frase era balli no no normale c'è bisogno e stavo pensandoci no fai normale non ti metti questa mano così ma io prima di ballare voglio pensarci a chi lo do c'è qualcuno dai numero due questa è bella è una strozzata ma fai lascialo qua scusa posso lanciare le mani leggermente umide ma poco allora si faceva così adesso mi si faceva così ciao balli balli e di sì ma ci stavo pensando ti porto qua allora che cosa si faceva ragazzi si cingeva la vita così tu metti così tipo così e basta finita che fantasia e si dondo posso avere un po' di volume vedi questo è un po' del piano e poi si parlava ora noi facciamo finta 3 2 1 e poi si faceva questo poi questo poi questo poi questo poi questo no no qui cioè tu ti rendi conto cosa stiamo facendo dal festival di Sanremo festival di Sanremo scusa aspetta 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 non è allora se avessero suonato in un locale questo pezzo il locale sarebbe fallito in in 6 minuti sarebbe fallito mi hanno detto intratieni 50 minuti che si sto scegliendo quindi i balletti facciamo da ma un vero un vero lento ok maestro vai 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 ok maestro ok maestro ok maestro T'ho fatto male? T'ho fatto male? Signore mio! Tutto sto pezzo, secondo me, se l'avessimo fatta alle nove e mezza, dieci, non era una figata? Posso dire una cosa? Questo festival non sarebbe stato così se non avessi avuto con me tutti i giorni il mio amico da 35 anni, colui che ha illuminato il festival di Sanremo, Rosario Fiorello! Grazie! E' la mia prima standing ovation a Sanremo, eh? Grazie! E' stato bello, bello, bello! E' stato bello, bello, bello! Grazie a tutti!